Allora, adesso parleranno i rappresentanti istituzionali delle regioni meridionali che sono qui presenti. Per motivi di tempistiche, per qualcuno di voli, la scaletta sarà un po' così rivoluzionata. Intanto pregherei tutti quanti di rimanere in una tempistica che si agisce. Ogni tanto magari mi permetterò di interrompervi, quindi vi chiedo scusa in anticipo. Intanto il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Vincenzo Santo Chirico. Grazie. Dieci minuti? Dieci minuti. Se ha segnato i tempi, rispettiamo. Grazie. Innanzitutto il mio ringraziamento per questo invito e per questo contributo importante che ci è stato dato. Cercherò nel pochissimo spazio che abbiamo di dire le ragioni perché sono particolarmente grato di questo ulteriore contributo che arriva e di quanto sia importante un po' anche per il momento politico che viviamo e per la riflessione più generale su alcune questioni che oggi sono in forza e di cui qualche eco già si è avvertita negli interventi soprattutto del Presidente della Provincia e di Digo Novelli. Un ringraziamento perché ci fa capire ancora meglio, unendosi e aggiungendosi a tanti studi, a tanti contributi che abbiamo già conosciuto, quali sono stati i percorsi, le motivazioni, i contributi che sono arrivati alla resistenza e di come questo movimento, questo moto sia stato ricco di pluralità, di apporti diversificati territorialmente, politicamente, in varie forme, in vari modi e in vari tempi, alcuni dei quali anche non immediatamente percepibili come quelli ovviamente più diretti e immediati delle formazioni partigiane che ci sono state soprattutto nel nord dell'Italia. Da tempo, questo veniva detto prima, ma ricordiamolo e riaffermiamolo, siamo d'accordo nel dire che la resistenza non è stato semplicemente un movimento che ha riguardato una parte del paese, il nord, che è stato un movimento nazionale, che ha avuto un concorso nazionale, che ha avuto una partecipazione diffusa diffusa anche se le forme sono state diverse, perché oggettivamente l'Italia fra il 43 e il 45 si trovò a vivere una vita e uno stato diverso, dovuto dal fatto che ovviamente lo sbarco degli alleati iniziò dal mezzogiorno e quindi si creò quella divisione proprio fra il centro sud e il centro nord. Ma sicuramente la resistenza fu un moto e un movimento nazionale, sia pure, ripeto, plurale e differenziato. E sono grato a questo lavoro che è stato fatto, non solo degli studiosi e persone della Valle, ovviamente di cui siamo curiosi anche non solo di aver letto, ma poi di sentire il suo contributo, e a Roberto Placido che sappiamo quanto sia, diciamo, capace di insistere, di creare, di sollecitare nel creare, diciamo, fatti positivi e anche questo ulteriore contributo. E' importante perché ci offre anche a noi lucani qualche elemento di conoscenza che non avevamo. Noi sapevamo soprattutto di alcuni fatti, di alcuni momenti, che cercherò rapidamente di ricordare, che avevano manifestato, avevano espresso chiaramente un orientamento democratico antifascista della Basilicata, e qualche volta anche antelittera, potremmo dire. Cito tre episodi che forse sono poco noti, ai più, ma che sono, diciamo, abbastanza evidenti. Nella storiografia, diciamo, viene riconosciuto che la prima repubblica viene, in pieno fascismo ancora, viene dichiarata maschito nel 15 settembre del 43. Fu un episodio brevissimo, che durò 20 giorni, ma ci fu una sorta di affrancamento e di ribellione. Per poi dire che a Matera, il 21 settembre del 1943, ci fu una ribellione che comportò 26 morti, e fu una ribellione che nacque, ovviamente, da un moto, diciamo, di ribellione, di avversione, rispetto all'arroganza, rispetto alla prepotenza di chi occupava il territorio, come erano i tedeschi che stavano abbandonando quelle aree del sud, e come ancora, poi ci ritornerò un attimo su Matera, a Rionero, c'è il sindaco Antonio Placido di Rionero, che riconobbe un altro episodio, il 24 settembre del 1943, quando ci fu lì un eccidio di 18 persone. Ricordo questi tre episodi del settembre 1943, che sono precedenti a quell'episodio, molto più nodo di cui forse parlerà poi il Presidente della Campania, che sono le famose quattro giornate di Napoli, che appunto si collocano fra il 27 e il 30 di settembre. Ma i primi momenti di ribellione, di avversione, di sollevazione popolare, rispetto a quegli episodi, li troviamo in Basilicata. E quelli si erano fatti noti, come era noto, io credo anche, che la Basilicata ha avuto anche un atteggiamento di grande accoglienza, di grande sensibilità verso i confinati politici che abbiamo avuto durante il fascismo. Io ricorderò che in Basilicata, detta anche Lucania, a terra di confino, arrivarono 2.500 confinati politici, tra cui uno dei più noti ovviamente fu Carlo Levi nel 1935. E furono i confinati che non furono visti come un corpo estraneo, che non furono isolati. Anche questo probabilmente se diventò, in quel territorio e quello di opinione pubblica, una sensibilità che poi si manifesterà successivamente. Dicevo, quei due episodi che ho ricordato comporteranno anche un riconoscimento a quelle due città che abbiamo citato, la medaglia d'argento al merito civile a Rio Nero, la medaglia d'argento al valore militare a Matera. E questa ricerca ci va a fare un altro passo in avanti. C'era noto, oltre a questi tre episodi, c'era noto che molti Lucani avevano concorso in qualche modo alla resistenza. Io ricorderò rapidamente alcuni nomi, alcuni sono molto famosi. Potrei dire per esempio Luigi De Filpo, che fu collaboratore della rivoluzione liberale di Gobetti e che fu membro dell'Assemblea Costituente, sottosegretario durante il primo governo della Repubblica. Altri parlamentari come fu Michele Bianco e Mangino. alcuni famosissimi intellettuali, come Carlo Salinari, grande critico letterario, e Sinisgalli. E li troviamo, questi soprattutto nella resistenza romana, per esempio, e altri magistrati, penso Panevino e Perretta, a Savona o in Lombardia. Questo per dire che avevamo la consapevolezza che i Lucani avevano partecipato in qualche modo, complessivamente, come vedete, in tante parti dell'Italia, anche se non specificatamente, questo contributo qui ci dà la possibilità di dire che non furono solo, come dire, pochi illuminati, coloro che erano più sensibili, che avevano una grande cultura, una grande sensibilità politica, ma ci fu qualcosa di più. Lo dico, come dire, non per fare una questione di numeri, furono 211 i Lucani, eccetera. È vero, ha ragione, non mi ricordo di parecchia che abbia detto lui, che i siciliani furono 2002, rapportate, lo dico perché siamo piccolini in termini di popolazione, rapportati al numero dei popolari. E vedete, lo dico perché, se si raffronta questo per tutti i 6.000 di cui c'è la ricostruzione, si vede che c'è un uguale partecipazione, lo dico per fare una sorta di graduatoria di chi ha dato di più, lo dico, ma invece per dire che fu oggettivamente una partecipazione più a ma. E il fatto che questa ricerca ci dà questi nominativi, io non so se sarà possibile fare qualche sforzo in più, anche da parte nostra, per dare anche un seguito a questo lavoro, per capire più esattamente la provenienza, come ci fu quella, a parte i percorsi già in qualche modo individuati in senso generale, cioè militari che erano nell'esercito dopo l'8 settembre, oppure coloro i quali erano qui per ragioni di lavoro, ma diciamo, avendo i nomi a disposizione anche le provenienze, forse si può fare un ulteriore sforzo di approfondimento per capire meglio quali furono i percorsi, il radicamento che ebbe la Costituzione. Quindi io credo che questi dati che ci vengono offerti oggi ci confermino che la resistenza fu una lotta di popolo, un'Italia, diffusa, plurale, e questo spiega, permettetemi di dirlo anche qui, l'ho sentito in qualche altro intervento, ma mi piace ribadirlo, questo spiega perché l'antifascismo fu un effettivo collante nazionale che è durato per decenni e che si è inverato nella Costituzione. Se la resistenza fosse stato solo un fatto localizzato in qualche parte, se non avesse coinvolto tutta la nazione, io credo che non avrebbe avuto quell'effetto permanente, così a lungo nel tempo, segnandone dalle basi quale punto fu la Costituzione, e quindi io credo che quel rapporto che anche viene detto nello studio fra risorgimento e liberazione di unità nazionale sia uno dei punti fermi che noi dobbiamo avere questa ricerca in qualche modo, sia pure per una via del tutto particolare, indirettamente conferma. Un'ultima questione, mi permetterete di affrontare per due minuti, così credo di stare anche nei dieci minuti, tralasciando una questione sul quale io sottoscrivo perfettamente l'intervento del Presidente Satta, ma su una questione vorrei aggiungere un ulteriore elemento, qui, che in qualche modo completa quella riflessione. Io credo che questa ricerca, che questa ricchezza, come dire, la dimostrazione o la conferma della ricchezza degli apporti regionali alla vicenda nazionale ci faccia capire come il regionalismo, e cioè lo sviluppo politico-istituzionale che di questo c'è stato, sia uno dei punti fermi dai quali non bisogna tornare indietro. Dico che fa da pandanna a quello che diceva Satta, perché guai a immaginare che il neocentralismo, che l'accentramento delle decisioni, una sintesi forzata, possa rappresentare la risposta giusta a un momento politico-istituzionale e sociale così difficile come quello che viviamo. Anzi, se vi sarà una partecipazione, se si recupererà una coralità, uno sforzo, una solidarietà, una cooperazione che purtroppo è stata messa in forza in questi anni anche per alcune impostazioni istituzionali che sono state date sulla spinta di alcuni movimenti di carattere più politico, se sarà fatto questo io credo che avremo maggiori risorse, maggiori armi per affrontare le difficoltà che abbiamo. Il regionalismo, depurato ovviamente da tutto quello che va depurato, diciamo, dalle scorie che abbiamo accumulato, che ovviamente vanno cancellate e vanno messe da parte, ma guai, come si diceva prima, a travolgere le istituzioni e gli impianti istituzionali per l'incapacità o per le lacune o per i difetti che può avere in quel momento chi rappresenta quale istituzione. Se non si fa questa distinzione credo che si compie un errore fondamentale anche perché il rimedio che si ritiene di apprestare non è efficace per trovare una soluzione a quel problema che c'è. Perciò io credo che anche questo dato e anche per questo ringrazio chi ha voluto e chi ha svolto questo contributo. Anche questo ci spinge a dire che l'Italia è questa, l'Italia è ricca dei suoi apporti, della sua capacità di integrazione e che ha vinto le battaglie quando non si è divisa ma quando si è unita e quando si è dato spazio, voce, possibilità di esprimersi alle varie istanze. Lo dico da una piccola regione del Mezzogiorno che però, diciamo, la nostra, anche una comunità quella lucana molto presente, a caso abbiamo prestato Roberto Placci, non è un caso diciamo che sia successo questo, voglio dire, l'abbiamo prestato perché è una risorsa anche per noi, voglio dire, ma dicevo, questa unità fra, diciamo, che c'è in particolare fra la Basilicata e le comunità lucane per sentire Chettonio conferma questo dato. Quindi, da questo punto di vista io credo che sia merito di questa iniziativa averlo confermato accanto all'originale contributo, è una iniziativa, è una ricerca che parla di questo ingrocio di destini ieri come oggi per quell'Italia quella che volevano i partigiani cioè un'Italia più libera e più giusta. Quello che volevano loro ieri è quello che credo dobbiamo continuare a volare anche noi oggi. Grazie.